Supportare la stream con un sub OPGG review Le OPGG review ragazzi Ascoltatemi bene Le OPGG review ragazzi Sono Inutili È merda Merda Sono totalmente Inutili le OPGG review ragazzi Sono totalmente inutili Adesso vi faccio vedere perché No totalmente eccessivo Perché tutte le cose che sono Insomma così Così spinte C'è sempre l'errore Però sono inutili Esatto Link Bravo Ottima cheat Secondo me farmi poco Io da diverse volte ragazzi Ho parlato delle OPGG review Che io non ho mai fatto Io facevo delle review simili Che erano le Mobalytics review Che erano le review Devo assolutamente Assolutamente Mettere uno sfondo Dietro la chat Se non si vede una sega Quei sfondi bianchi Che erano le review Delle Di Mobalytics Che è un'app Che analizzava Le I risultati Del giocatore Durante le partite E creava dei grafici Quelle Erano veramente Della roba utile Perché Mobalytics Creava Grazie a un sistema Di analisi Dei grafici Molto buoni Che già andavano A consigliare qualcosa Ma per chi Non sapeva leggerli O non sapeva Interpretarli A livello di Ok Questo errore È questa cosa In game E non erano Così facili Da applicare Io che invece Sapevo come si faceva La analizzavo volentieri Le abbiamo tolte Perché Mobalytics Ha modificato la roba E non funziona Praticamente più Non so se l'hanno Semplicemente smollata E in più perché Le facevamo tra un game E l'altro E ora non abbiamo Molto tempo Col fatto che Le streaming Sarali durano Un pochino meno Rispetto a quando Invece prima Facevano delle streaming Di 4 ore Il pomeriggio Però ne facciamo meno Perché le OPGG review Sono inutili Le OPGG review Sono inutili Ragazzi Perché io Vado su OPGG Apro la partita E vedo Il vostro score Le kill Il danno fatto ai campioni Il danno preso Le ward piazzate I gold guadagnati Posso guardare La kill map Un pochino La timeline Al massimo E il vostro build Il vostro build path Quindi sapete Che cosa Potete tirare fuori Dall'OPGG Potete tirare fuori Generalmente Queste cose I cs per minute Vedete Vedete le partite L'everage cs per minute Di questo player è 6 Ti dite Farmi poco Cerca di migliorare il cs I cs per minute E E tra l'altro Avete soltanto E tra l'altro Non gli potete dire neanche Quando è che perde i cs Voi vedete soltanto Che ha un cs per minute basso E Ma non sapete dire Se li perde durante Lening phase Se li perde durante Il mid game O durante il late Spesso si perdono Durante il late Ma Comunque non sapete dirlo Quindi Hai il cs per minute basso Dovresti migliorarlo E Piazza poche world Da support Dovresti migliorarla Fai pochi danni Devi cercare di essere Più D'impatto Durante I fight Senza sapere però Come Perché non avete idea Di come gioca Muori troppe volte Kill participation Bus E quindi Partecipi poco Alle cose del team Fine Non c'è altro Che potete tirar fuori Ah no giusto E Build path Sbagliato Rune Build path Sbagliato Del tipo In questo game Invece che chiudere Gli oggetti in questo ordine Dovrei chiudere in quest'altro Potresti buildare Questo in mezzo Oppure dovresti utilizzare Delle rune diverse Basta Ma tutta questa roba qui Non serve A una sega Perché non spiegate Come migliorare Questi ragazzi Sono i buchi neri Di chi non sa insegnare Ok Che questo non vuol dire Che Sono Che una persona che Vi fa questa cosa Non sa del gioco Ma non sa Insegnarvi È differente È totalmente diverso Avere la conoscenza Di qualcosa E saperla insegnare Motivo per cui È difficile fare Il professore Ad esempio I professori sono Per la maggior parte Per la maggior parte E tanti Ci sono tanti Professori incompetenti Perché non è che Non sanno Il loro Non lo sanno spiegare Ci sono tantissimi Content creator Anche molto bravi Anche molto bravi Tipo ls Ls mi sembra che le faccio Lpgg review Non ne sono sicuro Ma la maggior parte Fanno lpgg review Esattamente come vi ho detto io Esattamente come vi ho detto io Che guardano il vostro pgg E dicono Eh farmi poco Men Farma di più Men Questa build Dovevi farla in un altro modo Men Le rune Le dovresti fare in un altro modo Ma che cazzo Me ne fotte Cioè La build corretta Ok va bene Un consiglio Ok Tutto quello che vuoi Ma è solo l'esempio Dei game che mi vedi qui E non riesci neanche a darmi Una roba assurda Cioè Una spiegazione corretta Perché non ti vengono a spiegare Il totale build path Di tutti i possibili casi Tipo il campione Ma semplicemente Ti prendono magari Qualche esempio Perché ovviamente Non sprecano un'ora A farti un pgg review Stessa cosa per le rune Se mi dici Che devo farmare di più Secondo te Riesco a farmare meglio No Lo so anch'io Che devo farmare meglio Anche io Se mi guardo Non mi serve Che una persona Mi faccia l'opgg review Per vedere che c'ho 6.5 cs minuto con twitch Che è pochissimo O 6.3 con hash Lo so Anche se non è tantissimo Però se te già È decente Lo so anch'io Che ho un cs per minuto basso Ma come risolvo Uno pgg review Non vi dico C'è un cazzo di questo Se la persona Che fa l'opgg review È un mostro Cioè Sa come si spiega Il gioco E conosce il gioco Allora forse Forse Vi tira fuori qualcosa E anche in quel caso Secondo me Non è efficace Tanto quanto Vedere delle parti drop Del genere Che ovviamente Richiede più tempo Tutto quello che volete Mobile itx Era più dettagliato E quindi vi dà Dei consigli più Accurati Perché Una persona che sa bene Del gioco Cerca anche di farsi Una proiezione mentale Di quello che è il vostro Gameplay Vedendo che cosa Come giocate Cosa fate E dice Ok Va bene E tu farmi poco Spesso Quando hai Farmi meno Quando fai più kill Quindi cerca di Riuscire Cioè di Farmare più Minion Anche quando Prendi le kill Cioè le kill Non sono un sostituto Di minion Sono un'aggiunta Se tu perdi minion E fai le kill I gold guadagnati Non sono Il massimo Che puoi guadagnare Perché capite benissimo Che se avete 50 minion E 2 kill E 100 minion Si controbilancia La storia Ok Non c'è una grande differenza In gold Quelli bravi Dicono questo La maggior parte Vi diranno Solo stronzate Solo stronzate E questa è la verità La maggior parte Le persone Con le pgg Vi dice Solo stronzate Tutti quelli che si E E Si Impersonano Si fingono Si Cercano di darsi Il tono Di Di Insegnante Neanche coach Di Insegnante Che vi danno Il contentino Dell'ok Ti posso farlo pgg E roba del genere La maggior parte Delle volte Non ci guadagnate Una sega Poi magari Ve lo spiegano bene La maggior parte Delle volte Non ci guadagnate Una sega Da una pgg È proprio Tempo perso Fate risparmiare Del tempo A quella persona E risparmiate Del tempo A voi Delle Delle